Il Giorno di presentazioni, dei rispettivi ritiri, il Napoli fa conoscere a stampa i tifosi Callejon, che subito si dice entusiasta di poter giocare a San Paolo e annuncia sono venuto per far tornare lo scudetto in azzurro. In casa Inter, presentati Belfodile e Cardi, entrambi hanno palesato una grande voglia di dimostrare il loro valore dopo i primi giorni di allenamento con il neotecnico Mazzarri. Non è mai semplice, inoltre, il trasferimento da una sponda all'altra della città. Vedi Ocbonna, che è arrivato in bianco-nero nella conferenza di presentazione, ha voluto specificare di non considerarsi affatto un traditore. Infine, in casa Roma, dopo aver presentato le nuove divise e suscitato un po' di polemiche, la dirigenza sta cercando di calmare i tifosi con una campagna acquisti di livello. Presi Benassia, Maicon e Strootman. Un'altra squadra che ieri ha svelato le divise della prossima stagione è l'Udinese e a Formentera, un grande ex bianco-nero, si gode le vacanze in attesa di ultimare il corso per allenatori a Coverciano. Adesso mi dedico alla famiglia, ho fatto un master all'Università Parma in management sportivo e adesso facendo un corso a Coverciano, un corso per allenatori. Prende agosto dell'anno scorso mi sono operato al crociato, poi ho fatto la rieducazione a Roma e a gennaio ero pronto, però ho deciso di smettere di cessare l'attività.